Il meteo questa volta è stato il nemico peggiore dei ladri. Non perché il sole, la pioggia, il vento abbiano in qualche modo rovinato i loro piani criminali, ma proprio perché sono state delle telecamere installate per tenere sotto controllo la situazione meteorologica a immortalare i loro tentativi di assaltare i garage a Cavalzal di Monticello Conteotto, zona che in queste ultime settimane è stata davvero presa di mira da una nuova banda di predoni. Quello che è accaduto lo spiega direttamente lui, il meteorologo diventato detective. Chi l'avrebbe mai detto che le telecamere per l'osservazione meteorologica avrebbero rilevato qualcosa che non ha nulla a che vedere con la meteorologia? Alle 4 di stanotte infatti le mie telecamere puntate sul cielo del mio territorio hanno rilevato la presenza di soggetti che hanno tentato e in qualche caso sono riusciti ad entrare nei garage di alcuni vicini di casa. accedendo dal piano interrato. Nelle immagini registrate, come si capisce per puro caso, potrebbero esservi degli elementi utili a identificare gli autori dei ride contro i garage della zona. Ed ecco che, come giusto, quelle riprese sono già nelle mani dei carabinieri di Dueville che potranno utilizzarle per dare corso a maggiori indagini. Ecco, quindi ho consegnato tutta questa documentazione video ai carabinieri che poi faranno le giuste valutazioni.